Siamo in compagnia del professor Piras, docente della facoltà di conservazione dei beni culturali Università di Bologna, sede di Ravenna. Di cosa parla il volume che presentate oggi? Il volume è dedicato alle conoscenze mediche fra Oriente e Occidente. Sono gli atti di un convegno che si è tenuto a Bologna l'anno scorso, atti che sono stati in tempo ragionevole pubblicati. L'argomento era quello della medicina nella sua dimensione globale, quindi non solo medicina dell'Occidente, quindi la scienza greca, ellenistica, romana e poi medievale, e in generale quello che è stato il percorso della scienza occidentale. Ma vedere questo percorso scientifico, terapeutico in relazione con altre medicine, come quelle appunto dell'Oriente, come quelle di altri saperi tecnici, scientifici, che hanno caratterizzato quello che è stato un incontro nel Mediterraneo, offre saperi, tecniche e medicini di ambiti, di culture e di provenienza differente. Questo a riprova di una globalizzazione della cultura che ben prima di questo termine, direi che caratterizza la storia del nostro continente euroasiatico. La cosa si avvassa anche delle competenze di una genetista, quindi il volume e anche la filosofia che anima questo incontro risponde a quella che è un incontro fra scienze umane e scienze esatte. Questo nel desiderio di ricostruire quella che è una storia culturale, che è stata fondamentalmente una storia di contatti, una storia anche di sovrapposizione fra quella che una scienza appunto dell'antichità ha sempre rappresentato come dire una vocazione anche a una completezza di tecniche, di saperi, di rimedi. Quindi non culture in scontro, per usare un'altra banalizzazione frequente oggi, delle scontri di civiltà, ma culture in incontro magari spesso conflittuale, spesso comunque non agevolato da una immediata comprensione, però diciamo in un dinamismo comunicativo, quindi dialettico, che ha fatto sì che la storia del nostro Occidente sia in realtà appunto una storia di un continente euro-asiatico che non prevedeva confini, barriere e anche quelle più insormontabili come la lingua o la differenza di mentalità potevano essere adeguatamente compensate e superate grazie al dialogo, grazie alla competenza in lingue diverse.